Si accavarono la critica, oggi marcaré tre gole e sarei pichichi! Ibra! Eh! Che dico? Che si accavarono la critica, oggi marcaré tre gole e sarei pichichi! Bene! A ver con che juego voi! Eh! Non è se non si scrive asi! No, questo è il pitufino, Pedrito! Tu, sei qui! Eh! E nel banco! Con Xavi e Iniesta! Eh! Però vabbè chi dice questa lineazione! Johan Kri! Eh! E, entonces! Deja'l del banco a Bojan, Pintio, Xavi, Iniesta, Albios i Messio! No sei Johan... Vols dir che funzionara? Bueno! Automaticamente no lo se! Pero veras qui cara di tonto espondran unos periodistas! Noooo!!! Se acabaron las criticas Se acabaron las criticas Hoy me ha caído entre goles Inserente El man